È scelerato l'aumento del costo dell'abbonamento per sciare, lo denuncia l'associazione Save Gran Sasso. Secondo la nostra analisi, scrivono Campo Imperatore, a caso del nuovo scelerato aumento del costo per la stagionale, tra le stazioni scistiche presi in analisi, ha il punto di pareggio più alto, 17 giorni aliere di tutto. La denuncia arriva, come dicevamo, dal progetto Montagna Save Gran Sasso, un'associazione culturale che da tempo si batte per lo sviluppo del bacino scistica aquilano, che ha messo a confronto il numero degli ingressi giornalieri delle principali stazioni abruzzesi per valutare quanti ne occorrono a ciascuna per arrivare al punto di pareggio dell'esborso iniziale. Abbiamo sempre pensato che fosse particolarmente scorretto nei confronti dei contribuenti e che generasse malcontento tra i cittadini aquilani il far pagare, sempre a quest'ultime, le numerose crisi di liquidità che affrontarono dalla sua nascita al centro turistico, mediante necessarie ricapitalizzazioni, al fine di evitare il fallimento della partecipata, dice l'associazione in una nota. Anche in questo caso, analizzata a fondo la situazione, sembrano non esserci particolari soluzioni alternative. Possiamo però sperare, e come associazione siamo sempre disposti a dare in tal senso tutto l'aiuto necessario, che con l'attuale stato di gestione straordinaria si cominciano ad affrontare, senza logiche partitiche, di spartizione o convenienza, le numerose problematiche in un'ottica di immediato rilancio della stazione, con i mezzi già a disposizione, al fine di invertire il trend negativo e tornare a creare utile ed esercizio. Non è impossibile, come tendenzialmente si crede a causa della scarsa reputazione che negli anni ha contraddistinto il centro turistico in termini di profitto. Certo è che quando ti trovi di fronte a determinate novità che ci ha lasciato la procedente gestione, diventa tutto più difficile. Vediamo di cosa si tratta, scrive Save Grand Sasso. Da ieri, primo di novembre, chiunque voglia sottoscrivere un abbonamento stagionale per la stazione scistica di Campo Imperatore, si troverà di fronte a un aumento complessivo, rispetto a ieri, di 130 euro, il costo di sottoscrizione intero quindi passa da 240 a 370 euro, una scadenza non allineata con altre stazioni scistiche, più in generale una scelta fuori da ogni logica imprenditoriale. Una scelta scellerata, continua l'Associazione, figlia di una gestione altrettanto imbarazzante, per la quale i revisori dei conti della partecipata hanno espresso plurimi dubbi che abbiano avuto tutti la possibilità di leggere ultimamente. Bisogna porre rimedio a quest'ultimo regalo ereditato dalla precedente amministrazione e bisogna farlo immediatamente, concludono, prima che i potenziali clienti perdano definitivamente il desiderio di non abbandonare la propria montagna.